Un incontro con le associazioni dell'area vestina organizzato dal centro servizi del volontariato di Pescara per presentare il piano formativo e promuovere, sostenere e rafforzare il volontariato. Noi abbiamo fatto una scelta, la scelta di partire con la piazza del bene comune che è stata lanciata a Pescara il 3 febbraio e con questa scelta abbiamo deciso di andare più vicino a tutte le associazioni del territorio, tra le quali naturalmente sono molto importanti quelle dell'area vestina. E quindi siamo qui questa sera per ribadire questo concetto e per presentare le iniziative di formazione che faremo nel corso dell'anno 2017. All'incontro presente Stefano Gheno, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per parlare del cambiamento delle politiche sociali e del lavoro. Viviamo in un periodo in cui tutto cambia, tutto sta cambiando, le sfide sono sempre più importanti. Quello che è il cambiamento più generale del paese, del sistema di welfare, che è del volontariato, è sempre più importante e quindi anche i volontari devono essere sempre più preparati, sempre più pronti a rispondere positivamente. Questo per il benessere loro e per il benessere di quelli che aiutano, che accompagnano, per il servizio che rendono. L'incontro, ospitato nella sala polivalente del comune di Colecorvino, con il sindaco che ha voluto rimarcare l'importanza del sapere amministrare un'associazione. Gestire un'associazione in maniera corretta, sotto il profilo giuridico e anche economico, contabile, è molto molto importante. Ormai non esiste più un'associazione che viene gestita così, in maniera familiare, ma ci sono delle cose da rispettare. E poi le associazioni hanno delle difficoltà nel momento in cui devono rendicondare ai comuni oppure devono partecipare a degli avvisi della regione Abruzzo.